Tra i volti noti a Istra Challenge, Furio Benussi, velista triestino ben conosciuto, quest'anno un terzo alla Barcolana che quasi quasi poteva essere un primo in queste bonaccette, qui a Pirano poca aria ma comunque non bonaccia, sei a bordo di Nembospeed quest'anno, l'anno scorso eri invece su Raptor, sul C30, quindi la seconda edizione per te, corretto? Corretto Cosa ne dici di questa edizione di Istra Challenge? Beh, un bellissimo posto, una location fantastica, una bellissima organizzazione, non si può dire solo cose positive posso dire di questa esperienza qua, io spero che cresca e diventi un appuntamento fisso anche per i professionisti del Tirreno, che solitamente gravita in Tirreno e in altri circuiti che possono avvenire qua in questo posto che devo dire è la perla del nord adriatico. Perfetto, allora dopo questo spot pubblicitario, giustissimo, su Pirano, ringraziamo verso l'organizzazione, parliamo dei tuoi programmi dell'anno prossimo, perché il programma Maxi con cui ti sei visto la Barcolana so che andrà a evolversi in Tirreno, giusto appunto? Sì, il programma Maxi dovrebbe, stiamo lavorando per fare delle modifiche alle barca che sono necessarie, soprattutto sulla Chiglia che è una struttura antiquata, deve essere un attimino più modernizzata, in modo da alleggerire e riuscire a portare i pesi della barca come da progetto, dovremmo fare, anzi la faremo, la Palermo, Monte Carlo e la Giraglia e poi stiamo valutando se fare ancora un evento a Favignana perché c'è un interesse da andare a Favignana. Questo è quello che farà la barca il prossimo anno, è un impegno divertente perché comporta un lavoro interessante con i progettisti, una collaborazione un po' con gli sponsor, vediamo il futuro. Speriamo che sia l'inizio di una nuova dimensione della nautica, di quello che eravamo noi dieci anni fa. Oggi devo dire che si fa molta più fatica di quella volta a trovare soprattutto gli sponsor e gli armatori che spendono dei soldi sulle barche. Ecco, il progettista immagino che sia sempre Andrea Justin e naturalmente immagino che tornerete anche alla Barcolana l'anno prossimo. Beto, vorremmo tornare alla Barcolana l'anno prossimo, speriamo di giocarci di nuovo il primo posto. Quest'anno è andata molto bene perché il progetto è partito in ritardo, siamo riusciti ad andare in acqua e ad arrivare anche all'arrivo. Poi quello che è successo in Barcolana è un po' stata una storia a sé, potevamo arrivare primi, potevamo arrivare quinti, siamo arrivati terzi, ci siamo meritati il terzo posto perché non abbiamo rubato nulla, va bene così. Perfetto, in attesa poi di vedervi alla prossima edizione, non con il Maxi, ma la prossima edizione di Istra Challenge. Ci penseremo, la prossima edizione, come venire qua e essere più competitivi. Quest'anno è stata una regata fatta con amici, devo dire che è stata una bellissima esperienza fatta in amicizia e il prossimo anno saremo sicuramente più competitivi. Vogliamo dire ancora due parole sulla barca di amici, l'Avvocato Manzini e comunque c'è anche Federico Stoppani. C'era Federico Stoppani, c'era Piero Fornasaro De Manzini, c'era anche Bruno Catalan, c'era Paolo Vatta, c'era Giulio Fornasaro, il nipote di Piero. Comunque è stata una barca che abbiamo cercato di far bene, io credo che con alcuni accorgimenti la barca potrebbe essere molto più competitiva e lottare per qualche posizione migliore. Bisogna convincere l'armatore che ci sono delle cose che funzionino in un altro modo rispetto a come le pensa lui. Vabbè, queste sono le lunghe vicende tra i professionisti e i loro armatori, ringraziamo Furio Benussi e a presto. Grazie a voi, ciao. Ciao.